Buon Samurai a tutti, oggi la nostra diretta è dedicata al Taekwondo. Il Taekwondo è la via del calcio e di pugni di estrazione coreana. Abbiamo come ospite d'onore il primo presidente della nostra collana che abbiamo predisposto per Samurai Channel, che è Angelo Cito, diciamo l'angelo del Taekwondo, l'angelo dei calcivolani se vogliamo, che noi vogliamo che lui oggi ci porti non i discorsi di carattere statutario federale, ma soprattutto un passato storico del Taekwondo. Per quanto riguarda Samurai in particolare, possiamo dire che nel 1976, con la nascita di Samurai nel mese di aprile, usciva il primo articolo fatto dal nostro collaboratore Leandro Spadari e l'anno dopo, la Pasqua del Budo, arrivarono guidati dal presidente Sun Yai Park i primi fonamboli del Taekwondo, che lasciarono stupiti il paralido di Milano gremito da oltre 5 mila spettatori. Quindi il Taekwondo è rimasto nel nostro cuore, nel mio cuore in particolare. Ricordo un piccolo anedotto, prima di dare la parola al presidente, il presidente Park che ci ha lasciato qualche anno fa, mi aveva regalato un bellissimo piatto, fatto in Corea eccetera, che posai sul tavolo mentre il mio padre, Ennio Fassoni, presentava la manifestazione. Bene, quel piatto non l'ho più ritrovato, abbiamo cercato eccetera, ma neppure il presidente Park è riuscito a trovarmi un piatto uguale. Quindi mi rimane solo come idea, come immagine questo bellissimo piatto e questa grande kermesse e questo sorriso particolare del dottor Park che celava nella sua cultura orientale una lieve fantastica valutazione del nostro paese e non è da tutti, specialmente per gli orientali. Questo mi ha sempre lasciato impresso. Adesso, a parte le chiacchiere di prammatica, caro presidente, io direi di attaccare subito, parlaci un po' del tuo rapporto proprio con il presidente Park, perché questo è molto importante, perché tutti noi abbiamo un passato storico, senza la storia non siamo nessuno. Quindi ti prego di fare una tua carellata di momenti su questo personaggio che fa parte della nostra storia, delle arti marziali. Grazie. Intanto voglio ringraziare per questa intervista che è una cosa molto bella, molto bella soprattutto perché come la stai impostando, basata sul rapporto di rispetto tra le persone. Io so benissimo il legame che c'era tra presidente Park e Bertoletti, il direttore, perché lui lo chiamava così il direttore. Perciò questa è una cosa molto importante che va oltre poi i ruoli istituzionali che possono esserci tra un presidente o un direttore di giornale, ma era proprio il rapporto tra le persone e questo è quello che caratterizza soprattutto nel nostro mondo, nel mondo delle arti marziali, nel mondo dello sport, anche in generale, che la differenza è proprio il rapporto tra le persone. Passano gli anni, però rimane dentro il primo impatto che una persona ha con l'altra. E proprio a proposito del presidente Park, quel mio rapporto nasce naturalmente da un atleta, da un ragazzo che faceva tecondo, che per la prima volta lo incontrai, sai come succede nei corsi, ho un ricordo particolare, un suo incontro all'aeroporto di Brindisi quando io facevo l'atleta nel gruppo sportivo militare e vedere quest'uomo che rappresentava poi la storia di uno sport che io come ragazzo amavo, che avevo sempre sognato di fare, che a un certo punto ho iniziato a farlo non sapendo che fosse tecondo, ho iniziato a fare questo sport pensando che fosse karate, poi successivamente ho saputo che era il tecondo, che era il karate coreano, veniva sfacciato così. Però il rapporto con questa persona, questa persona orientale, perché anche quello era una rarità nel nostro paese in quegli anni, non si vedevano molti orientali né stranieri, perciò era una cosa molto affascinante, perciò c'era la curiosità di conoscere quest'uomo, la sua cultura. La cosa proprio più importante che caratterizzava il Presidente Park è che lui era una persona molto curiosa, nel senso lui era una persona che amava scoprire la cultura occidentale, ancora prima di insegnare la cultura orientale e questo non è da tutti, soprattutto per i maestri di arti marziali, si tende sempre a mettere davanti la propria figura, la propria cultura, mentre lui era proprio affascinato dalla cultura occidentale, dal modo di pensare degli italiani, ammirava moltissimo la nostra cultura e perciò lui diceva sempre che non dovevano essere gli altri ad imparare il coreano, ma era lui che doveva imparare l'italiano, questo per far comprendere come era il suo approccio nei confronti del nostro paese. Con lui mi sono trovato subito in sintonia, perché nacque un rapporto immediato di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi, che era, come diceva lui, quello di dare al taekwondo la propria casa, perché lui amava dire così, così ve la racconto, bisognava dare al taekwondo la propria casa, perché fino a un certo punto della storia della nostra disciplina, del nostro sport, noi eravamo ospiti presso casa altrui, non avevamo una nostra federazione, non avevamo una nostra indipendenza, perciò l'obiettivo era quello, dovevamo realizzare questo progetto, un progetto enorme per quegli anni, molti ci consideravano all'inizio dei sognatori, dei pazzi, spesso tutte e due le cose, perché non si era mai fatta una federazione nuova nel nostro paese, perciò poi che questa federazione fosse del taekwondo, di una disciplina che era praticata pochissimo, sicuramente molto meno nota del karate, pretendere di avere una federazione ufficiale, era veramente un azzardo, però ci credevamo molto, lui con solo due parole mi disse te la senti? Io gli disse sì e allora da lì iniziò l'avventura e la collaborazione che è andata oltre 20 anni tutti i giorni, lavorando insieme si è realizzato un progetto dove oggi è sotto gli occhi di tutti. Mi ricordo un particolare, quando noi ci siamo conosciuti, eramo Roma per i giochi del Mediterraneo, al palazzetto in zona Coni di allora, il vecchio Coni eccetera eccetera, e mi ricordo che Falsoni era al microfono e io mi occupavo della scenografia varia e tu che davi le prime direzioni sotto l'occhio del Presidente, che era sempre soddisfatto ma sempre insoddisfatto, ma una cosa che mi lasciava sempre un pizzico di bello, era quando diceva beh adesso andiamo a mangiare, perché volevo dire che tutta la nostra chiacchierata era finita lì e le cose importanti le discutevamo a tavola, che erano quelle che determinavano poi il colloquio. Lui raccontava spesso questo, perché lui raccontava il fatto che ad esempio è stato anche Presidente del Karate e lì partecipava ai consigli federali del Karate e mi diceva che erano cose lunghissime, duravano ore ed ore, questa cosa per lui era un po' nel suo modo di pensare un po' inconcepibile, nel senso che i consigli dovevano essere abbastanza brevi e poi nei rapporti informali, che poteva essere il pranzo, la cena, si riusciva ad ottenere molto di più di quello che si poteva fare in una lunga riunione di consigli vari, poi voglio correggerti su questo, lui non era una persona sempre poco insoddisfatta, lui sapeva benissimo dove doveva arrivare, perciò era un po', ecco lì si differenziava il carattere nostro dal suo all'inizio, perché magari noi avevamo raggiunto un obiettivo, eravamo soddisfatti e ci si poteva fermare, ecco questo modo di far apparire che ancora si poteva fare di più, non si doveva essere soddisfatti di quello che avevamo raggiunto, era un grande stimolo, soprattutto per me perché essendo talmente giovane, perciò tante cose non esistevano, bastava farle per me la prima volta e poteva rappresentare già un obiettivo raggiunto, allora lui conoscendomi da questo punto di vista doveva sempre crearmi altri obiettivi in modo tale che io potessi andare avanti, fino al momento in cui poi lui non è riuscito più a starmi dietro, come diceva da sempre, allora lui lì aveva raggiunto il suo obiettivo e questo era l'insegnamento che poi dal punto di vista di operare mi ha lasciato. Diciamo che è una prerogativa importante, al momento in cui il taekwondo diventa sport olimpico a Sydney nel 2000, in prima persona, grazie al presidente Park e al tuo lavoro, eccetera, prendo in mano la redazione per quanto riguarda le Olimpiadi, è stata una grande battaglia di accredito, eccetera, ma soprattutto è mancata per un attimo la medaglia, mancava l'esperienza, non la capacità, eccetera. Ed allora se noi consideriamo che ha messo in un concesso che il prossimo anno le Olimpiadi si facciano, poi faremo un discorso perché dico ho messo in un concesso, arrivo con questo 2000, anche se sarà il 2001, a ben 12 Olimpiadi che Samurai ha coperto dal 76, quindi una grande cosa. Nella nostra enciclopedia, che abbiamo iniziato nel 99 e abbiamo finito nel 2001, che qui mi guardo e vedo che il lavoro di Sydney ha preso uno spazio bellissimo, non bello, bellissimo, io penso che sia stato uno dei lavori che abbiamo messo in operativo migliore perché abbiamo cercato di dare, se non una cronaca, una serie di piccoli addotti, di piccoli fatti che Sydney ci aveva portato sulle mani. Adesso parlando di Sydney, dimmi tu la tua impressione di Sydney e dimmi cosa pensi del fatto che le Olimpiadi sono state rimandate per via del virus e se credi che verranno fatte il prossimo anno d'Ogio, con tutti i problemi connessi, non è una cosa facile. Sydney è per me l'inizio di tutto, nel senso che prima di tutto gli anni che hanno preceduto Sydney bisognava preparare un'Olimpiadi, chi lo sapeva? Non c'era scritto da nessuna parte come preparare un'Olimpiadi, come partecipare ad una prima Olimpiadi ufficiale per il nostro sport. Mi ricordo che bisognava inventarsi veramente tutto quanto, nessuno aveva l'esperienza per preparare un'Olimpiadi ufficiale, che era tutt'altra cosa di partecipare come sport dimostrativo, come era avvenuto nelle edizioni precedenti. Perciò ho la grande responsabilità, nel senso che lì mi giocavo tutto, mi giocavo tutto dal punto di vista di, parlo di segretario generale, il Presidente Parker da Presidente, nel senso che dovevamo dare atto di essere all'altezza, di poter partecipare, prima di tutto qualificarci e partecipare ai Giocolimpici, perciò la fiducia che c'era stata data, ancora non in modo completo, perché la federazione ancora non era diventata federazione ufficiale, lo diventerà subito dopo Sydney, ma eravamo diventati una storia molto bella, poi se avremo tempo ne racconteremo, federazione associata al CONI, perciò avevamo una quasi indipendenza, però non eravamo federazione ufficiale, io sapevo che mi giocavo tutto quanto lì, perciò avevamo preparato tutto, documentazione, eravamo pronti, però mancava il fatto che dovevamo qualificarci per i giochi olimpici. Per gli altri era già un grande successo nel momento in cui lo abbiamo fatto, il CONI, tutto quanto il sistema aveva preso atto che questo sport era riuscito a qualificarsi ai giochi olimpici, ma la cosa più bella è stato il momento in cui ho messo piede nello stadio, nel senso nello stadio di Sydney, nella cerimonia di apertura, nel momento in cui sono entrato con i miei atleti, con tutta la squadra italiana, lì ho detto noi da qui dentro non dobbiamo mai più uscire, non nel senso che dovevamo per forza partecipare a tutti i giochi olimpici, ma che il Taekwondo doveva rimanere nei giochi olimpici come sport ufficiale, perché lì capì veramente che cosa voleva dire diventare uno sport olimpico per le discipline come le nostre. Tutto il resto è molto molto diverso, è molto più ridimensionato, il concetto di stare lì in quel momento, entrare e essere a fianco a fianco col top a livello mondiale di qualsiasi sport olimpico è veramente qualcosa di fantastico. Bene, lì invece di essere un solevo, nel senso ce l'abbiamo fatta, lì invece doveva iniziare il lavoro per rimanerci il più possibile e per sempre come sport olimpico. Lì iniziò il vero lavoro, soprattutto la bellezza di partecipare alle gare, di aver sfiorato la medaglia, il discorso di poter dire che siamo arrivati con tre atleti su quattro, perciò era già di per sé un grande risultato, perciò era questa cosa. Però il momento in cui è mancata la medaglia che l'abbiamo sfiorata con Ulano, lì sono anche scese le lacrime a tutti quanti, nel senso che noi potevamo farcela, ce la stavamo facendo e è andata come è andata. L'attimo fuggente. Ma questo è lo sport e allora capisci che eravamo entrati in una dimensione totalmente diversa come disciplina. L'universalità dei giochi olimpici. Io penso che l'importante lavoro fatto a suo tempo da un Yong Kim abbia portato questo risultato, questa presenza poi da Sydney eccetera. Io dico sempre che colui che ha veramente il merito, che il taekwondo è diventato sport olimpico e un Yong Kim, su questo non si discute, questo gli andrà sempre riconosciuto. Se non ci fosse stato un Yong Kim il taekwondo non sarebbe diventato sport olimpico. Perché, guarda vi racconto una battuta, lui abbiamo avuto modo di stare molte volte con lui, in varie occasioni, sono stato l'ultimo persona che ha avuto modo poi, quando l'ho rincontrato due anni fa a intervistarlo, è l'unico che ha rilasciato un'intervista e che si è reso disponibile e anche la figlia, il governo coreano l'ha inserita nel libro ufficiale del comitato olimpico coreano, su di lui, che è stato scritto un libro bellissimo che racconta tante vicende dello sport mondiale. Lui mi diceva che gli unici che possono rovinare il taekwondo sono i coreani, lui mi disse così, io l'ho preso insieme al Presidente che rideva, il Presidente Park, che cosa vuole dire? Lui mi spiegò questa dinamica, disse, fino ad oggi tutto il mondo del taekwondo ragiona in un certo modo, chi deve decidere se il taekwondo è dentro o fuori, sono persone che pensano e agiscono in modo totalmente diverso. Bene, lui ha avuto la grande capacità di adattare questo sport, quest'arte marziale, facendola diventare sport, non si fermava davanti ai cambiamenti che doveva apportare, lo ha fatto senza discutere, quelle erano le regole che bisognava rispettare, è riuscito a far accettare questa disciplina come sport dimostrativo nel gioco olimpico che lui, come Presidente del Comitato Organizzatore, stava organizzando a Seoul e anche lì ha rischiato che il taekwondo venisse escluso e lui ha innescato una discussione molto feroce con Samaraj e questa cosa poi alla fine invece c'è riuscito, stessa problematica la ebbe quando doveva riconfermarlo a Barcellona, ad esempio che gli hanno ridotto, gli volevano ridurre le categorie a solo due categorie di peso e lui lì consiglio di se no basta, allora ci rinuncio completamente, qui c'è gente che lavora in tutto il mondo per questo sport, sono delle storie bellissime, grazie a lui che mi ha voluto raccontare, abbiamo registrato tutta l'intervista, l'abbiamo scritta, che oggi nessun altro sport ha e conserva, perché la storia della nostra disciplina è una storia legata a un percorso molto veloce rispetto a tanti altri sport, alla fine il taekwondo ci ha messo solo 20 anni come diceva lui per diventare sport olimpico, gli altri ci hanno messo anche 100 anni e questo è avvenuto solo grazie all'opera politica e diplomatica di Union Kim, poi tutti quanti ne abbiamo soffrito. Abbiamo pubblicato una fotografia proprio di Union Kim assieme a Giulio Andreotti, quindi parlo degli anni, perché lui quando venne in Italia è stato... aveva la capacità di dialogare con i primi ministri ad un intensissimo livello e di far ragionare e parlare sempre del suo taekwondo, il che non è poco, io mi immagino i dialoghi con Giulio Andreotti parlando di sport... E ti dirò di più, perché questo forse tu non lo sai, però io ho conosciuto Giulio Andreotti, io l'ho frequentato e l'ho intervistato, anche di lui ho la sua intervista, perché l'abbiamo pubblicata sul nostro magazine con l'audio e quando ho parlato di taekwondo, lui Union Kim lo ricordava e sapeva che personaggio, di quale livello o di persona stavamo parlando, perciò riuscire, come dici, a portare il taekwondo a questo livello di interesse di Presidente del Consiglio, Presidente degli Stati e usare il taekwondo come argomento è veramente una cosa eccezionale, non è una cosa semplice. Ecco perché quando è successo che lui è riuscito a inserirlo e farlo diventare uno sport olimpico non è semplicemente il fatto di aver fatto riconoscere un'altra disciplina, è quella disciplina che era una cosa veramente... Infatti se Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha e riuscire a dialogare con un personaggio che ha fatto la storia, che fa ancora la storia, quelli erano politici seri, non come i personaggi di oggi, il promettopoli, come lo chiamo io, il promettopoli romano, e sì, è un grandissimo successo. Adesso parliamo di Olimpiadi future. Ieri è uscito il comunicato stampa che il nuovo governatore, nuovo, il politico che si presenta per essere governatore di Tokyo, Yamamoto, che è un attore, oltre che un politico, famiglia importante, Yamamoto, ricorda il grande ammiraglio, il contramiraglio Yamamoto della Seconda Guerra Mondiale, quindi la famiglia di un certo peso, ha dichiarato che se dovesse vincere lui annulla le Olimpiadi. No, abbiamo molte esperienze in questo. Ha ricalcato la storia del sindaco di Roma, della sindaca Raggi, quando nell'ambito della campagna elettorale, anche lì nella candidatura di Roma 2024 fu preso come argomento. Io queste cose non mi preoccupano più di tanto, nel senso che è normale, questo personaggio rappresentando attualmente l'opposizione in Giappone, cerca di trovare un argomento che faccia da collante per tutti coloro che vedono le Olimpiadi, specialmente in questo momento, un problema per il loro paese. Mi dicono che comunque è molto indietro nei sondaggi e questo va bene, è un problema interno. A noi interessa molto di più. A noi ricordo uno dei grandi maestri di judo che si chiamava come lui, che è venuto Milano e che aveva la sua palestra dove è nato Samurai in Via Natale Battaglia del 27, quindi il nome coi che per noi dice vinci coi che perché ci riporta un certo passato. Ma come la vedi l'Olimpiadi del prossimo anno? Dal punto di vista dei problemi connessi al discorso l'Olimpiadi, i cambiamenti di regolamenti, un'Olimpiadi più snella se vogliamo? Assolutamente, sarà un'Olimpiadi completamente diversa, su questo non ci piove come si dice, sarà un'Olimpiadi modellata sul coronavirus con tutte le problematiche che questo sta comportando anche perché non ci sarebbe il tempo di organizzarla in modo diverso, i preparativi sono partiti quindi considerando tutte queste limitazioni. La cosa più importante, credo che oggi lo sport può farsi forza è sicuramente il discorso mediatico, alla fine l'Olimpiadi che arriverà a casa sarà la stessa Olimpiade, sarà molto diversa l'Olimpiadi dentro, chi farà l'Olimpiadi? Io ho sempre detto che l'Olimpiadi che uno fa all'interno del villaggio olimpico, dei giochi, dei palazzetti è totalmente diversa da quella che la gente vede fuori, perché ciò che la gente vede fuori è ciò che le televisioni trasmettono, si concentreranno sugli atleti, vedremo la teta competere, vincere, le immagini saranno sicuramente bellissime, le emozioni che si trasmetterà a oltre un miliardo di persone saranno le stesse, sarà invece completamente diversa per le persone che si troveranno lì. E questo è un peccato, nel senso che l'Olimpiadi è fatto di relazione, di vicinanza tra atleti, tra tanti popoli, culture diverse, avere queste limitazioni sicuramente sarà un'atmosfera differente, però io sono convinto che questo sarà compensato proprio dal messaggio che i giochi olimpici trasmetteranno al mondo, perché il messaggio che l'Olimpiadi dà è la cosa più importante, non è solo la gara in sé, il messaggio che sarà dato sarà quello che l'Olimpiadi è parte, che ci sono i valori olimpici che supereranno le problematiche che tutti quanti stiamo vivendo in questo periodo, sarà un forte incentivo per andare avanti, superare anche questo ostacolo. Poi se arriverà il vaccino, come credo, come dicono, almeno ben venga, questo sarà poi un'ulteriore facilità di relazione, però oggi più che mai bisogna fare in modo che le Olimpiadi si svolucano, anche in modo molto contenuto, però è assolutamente importante, perché va trasmesso quel messaggio a tutta l'umanità, altrimenti sarebbe oltre a tutto quello che stiamo vivendo, a queste rinunce, a questo modo di vivere le relazioni, sarebbe ancora una perdita ancora più grande se le Olimpiadi non si svolgessero. Naturalmente deve essere fatto tutto nella massima sicurezza, ma questo penso che si riuscirà a garantire. Poi naturalmente se tutto dovesse precipitare… Tutto si basa sul discorso del virus. Da noi nessuno sapeva di questo virus, nessuno sapeva come combatterlo, ma i nostri governanti, i nostri soloni, medici, eccetera, già sanno che verrà una seconda ondata. Sono cose veramente incredibili, non sappiamo niente prima, ma sappiamo che dovrebbe arrivare. Sicuramente potrebbe anche arrivare, non faccio di questi discorsi così a caso. Gli atleti che ancora devono fare le qualificazioni, una parte, perché la federazione, la FITA ha un qualificato già sicuro, giusto? Sì. Uno nel paratecondore, uno nel secondore. Chiaramente cambiarono le regole e anche con il cambiamento di un anno, di un anno è un peso importante e con un fermo altrettanto importante, perché sì, gli atleti di estrazione militare hanno avuto modo di allenarsi, ma è l'ambiente che è diverso, sicuramente. Diciamo che il grande lavoro che è stato fatto in questo periodo da parte del direttore tecnico Claudio Nolano, lo staff, è stato quello proprio di tenere alta la tensione con i ragazzi. Loro sono già rientrati nel centro di operazione olimpica, siamo l'unico sport, da qualche giorno è iniziato anche, sono i ragazzi dei tuffi, nel centro di operazione olimpica all'acqua cetosa. Loro stanno lavorando con le limitazioni nel rispetto del protocollo che abbiamo fatto, nel senso che stanno facendo tutto tranne il combattimento per ora, che è una cosa comunque importante, però hanno ripreso la preparazione dal punto di vista fisico e soprattutto mentale, perché il fatto di non avere la certezza dello svolgimento di una competizione, di un'Olimpiadi e tenere i ragazzi concentrati, questo non è facile. Infatti questo è il grande lavoro che si sta facendo. Ora, bisogna assolutamente, vorrei dire, per ora c'è una data, che è quella di luglio del prossimo anno. Le qualificazioni olimpiche noi contiamo di poterle fare, il primo step che il CIO ha detto è cercare di farle entro dicembre, se non sarà possibile entro dicembre saranno spostate entro aprile massimo del prossimo anno. L'Europa e l'Asia per quanto riguarda il Taekwondo ancora non le hanno fatte, perciò sono i due continenti più importanti, perciò bisogna fare le qualificazioni continentali. Il problema principale sarà il momento in cui c'è la ripresa totale, il sovraffollamento degli impegni che ci sarà, perciò anche lì bisogna stare attenti, nel senso che bisogna tenere gli atleti finalizzati all'obiettivo qualificazione olimpica e eventualmente Olimpiadi subito dopo, però bisogna anche fare delle competizioni poi intermedie per tenergli le condizioni fisica e mentale nell'ambito del combattimento perché da un bel po' che i ragazzi non combattono, perciò bisogna veramente fare tante cose in pochissimi mesi, ma questo vale per noi, vale per tanti altri sport, per quanto riguarda il Taekwondo varrà per gli atleti asiatici e quelli europei, noi avevamo programmato proprio a Milano la qualificazione continentale con la massima disponibilità e dovevamo farla ad aprile, forse ora vediamo perché tutti ora richiedono se si può riportare in Italia questa gara, se la situazione si rasarena, soprattutto se si dà il via al sport del combattimento per riprendere le competizioni, non è detto che non la riporti in Italia in una forma molto più contenuta perché naturalmente, sicuramente si faranno a porte chiuse perché quello ormai è un dato di fatto per i prossimi mesi, però l'importante ora è cercare di qualificare qualche altra atleta e soprattutto mettere in condizione tutti gli atleti europei di poter fare questa qualificazione e puntare all'Olimpiade, la responsabilità non è solo nazionale. Il tuo punto di vista su questa voce sport di contatto, che non so chi è che l'abbia inventata, perché il ping pong non c'è uno sport di contatto tramite la pallina, questo vale anche per il tennis, io penso che l'unico sport non di contatto potrebbero essere i 100 metri, se non si abbracciano alla fine quando hanno vinto. Tu cosa pensi che chi è stato che abbia inculcato al ministro Spadafora e company la parola sport di contatto eccetera eccetera, con questa problematica che poi è poco seguita, gli inglesi hanno già ripreso ad esempio, non si capisce come mai per gli inglesi sì, forse il virus inglese è adatto a combattere il virus in italiano e invece è più simpatico e non vuole farsi male? Guarda, la semplificazione a volte fa un sacco di danni, nel senso che noi siamo un paese che riesce ad affrontare difficoltà con impeto e grande impegno, però la semplificazione sicuramente ha portato a questa classificazione degli sport da contatto o non da contatto come giustamente dici, il contatto c'è dappertutto, è impossibile che non ci sia un contatto fisico tra le persone, una vicinanza, soprattutto quando si fa sport, qualsiasi sport esso sia, perciò il concetto è non aver avuto probabilmente il tempo di approfondire quelle che erano le problematiche da affrontare sport per sport, come federazione abbiamo dato la massima disponibilità, come comitato olimpico l'aver coinvolto il Politecnico di Torino, le federazioni hanno prodotto, però poi se dall'altra parte non ci sono le persone capaci anche di leggere tutte le informazioni e di metterle a terra nel modo corretto, questo provoca una semplificazione, quello che è accaduto nel nostro paese. Il problema è che ci sia stato un governo da poco tempo in sede di dato, tutta una ristrutturazione che è in corso, sport e salute, il Ministero dello Sport, il Comitato Olimpico che ancora non ha una legge che deve essere approvata in Parlamento della riforma dello sport, le federazioni che sono in attesa di quello che avverrà, tutto questo non ha agevolato in un momento così drammatico del nostro paese, perciò dobbiamo anche tenere presente questa situazione. Io sono fondamentalmente ottimista da questo punto di vista che voglio attribuire questa confusione che si è venuta a creare a questa situazione e non nella reale capacità di esaminare poi le questioni in un momento di tranquillità, perché questo momento di tranquillità poi dovrebbe portare a delle scelte che riguarderanno il mondo dello sport nel nostro paese che interesseranno i prossimi dieci anni, perciò mi aspetto che ci sia veramente un'attenzione importante nei confronti del mondo dello sport, anche perché tutti se ne sono accorti proprio in questo momento di grandi limitazioni, quanto lo sport possa aiutare e non solo dal punto di vista fisico, ma proprio dal punto di vista di affrontare la vita, che uno sportivo la vita la sa affrontare in un modo molto più determinato, consapevole delle difficoltà, cercarle di superare, raggiungere l'obiettivo, conquistare la vittoria. Tutti questi sono elementi che non sono solo teorici, non è che uno si parla giusto per parlare, perché si dice ha i valori dello sport, ma quali sono i valori dello sport? Che cosa vuol dire un valore dello sport? Chi effettivamente lo pratica ed è consapevole di questi valori? Che cosa servono? Perché è una cosa che non serve, è inutile che esista, perciò lo sport serve alla società, è una cosa che interessa i giovani e perciò è una cosa che bisogna assolutamente usare come strumento educativo della società. Bene, quando anche i nostri politici, per semplificare un po' il termine, prenderanno realmente consapevolezza di tutto questo, allora vedremo veramente quanto lo sport può aiutare tutti. Altrimenti saremo sempre a rincorrere, considerato che se è un ambiente un po' di viziati, un po' di privilegiati, quello naturalmente porta a sottovalutare, come se una piccola associazione sportiva che è in attesa lì di aprire, che deve fare il taekwondo, che deve fare il karate, deve fare il judo, stanno lì ad aspettare e non sanno quello che devono fare, come se fosse meno importante di qualsiasi altro settore. Per quei ragazzi che fanno quella disciplina, che frequentano quella palestra, è una cosa importantissima, è una cosa fondamentale nell'ambito della loro giornata, perciò bisogna preoccuparsi di loro, questo è una cosa che tutti devono ricevere. Ha citato il discorso del governo per quanto riguarda Sport Salute, CONI, ufficio dello sport governativo e non è finita. Cioè l'unica cosa che ogni volta si sente dire bisogna rivedere, rifondare il movimento politico dello sport. ma ogni volta c'è il cambiamento di linea politica, cambiamento di tutto. Ma è strano che nel Parlamento dove ci sono nuove leve, che qualcuna è anche estrazione sportiva, tipo Felice Mariani ad esempio del judo, non abbiano calcato la mano su quello che è la pratica, la parola sport da contatto. Felice Mariani che è stato medaglia olimpica nel 76 a Montreal eccetera, un'esperienza di un certo tipo e cosa fa in Parlamento se non dice al Ministro? Caro Ministro ma rivediamoci un attimino, parliamo un attimino. Ognuno dovrebbe fare il suo, io sono proprio d'accordo con te in tutti i sensi ma dappertutto come le federazioni devono fare il proprio ruolo, poi bisogna anche porsi il problema se si è ascoltati, perché la questione è quella, ecco perché la forza del… io sono un grande sostenitore del Comitato Olimpico, i miei interventi in Consiglio nazionale del CONI sono chiari lì a dimostrarlo, perché sono convinto che non sempre cambiare per cambiare porta a un risultato positivo. Bisogna, come dire, evolvere, allora è molto differente, il sistema sportivo italiano è assolutamente, conoscendo il discorso internazionale, è un sistema che funziona, funziona bene, va assolutamente creata quella evoluzione che è nelle cose, perché naturalmente tutto si evolve, lo sport lo fa di per sé, che lo renda attuale e più, come dire, fruibile a tutti. Il Comitato Olimpico per sé ha avuto una storia importante, è stata anche una garanzia per ciò che lo Stato per tanti anni ha delegato al Comitato Olimpico, perché per molte cose noi ne faremo bene a meno di occuparcene, perché come federazione mi interessa occuparmi di preparare gli atleti, portarli a livello internazionale, garantire alle associazioni sportive la struttura che possano fare attività, naturalmente per gli sport come i nostri il ragazzino inizia da piccolo, lo costruisci fino a farlo diventare per quello che avrà le caratteristiche, la fortuna di diventare un campione, per gli altri praticano la nostra disciplina, di quello voglio occuparmi. Poi il fatto che lo sport da tanti anni gli sia stata anche al Comitato Olimpico e alla federazione anche la responsabilità di occuparsi del sociale, di occuparsi del resto, ma perché non se ne è occupato probabilmente lo Stato che doveva farlo? Lo sport nella scuola se ne parla da una vita, però sappiamo benissimo che lo sport nella scuola è inesistente. Ma anche la scuola è inesistente. È inesistente non per incapacità. Anche la scuola è inesistente. Oggi c'è un esame di maturità, tu quello hai fatto dopo di me, è una maturità, diciamo così, all'acqua di rose. Io direi invece che se è necessario probabilmente nel nostro Paese riformare le funzioni che ognuno di noi deve avere, definire di chi è responsabilità questo e di chi è responsabilità quest'altro, ma poi nella massima autonomia bisogna fare in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità e porti a svilupparsi le cose di cui si deve occupare con dei risultati oggettivi, non solo teorici. Perciò la scuola faccia la scuola, lo Stato faccia lo Stato, chi si deve occupare del sociale, le federazioni si occupano di sport, dal punto di vista di organizzazione, il Comitato Olimpico faccia il suo in base a quelle che sono le direttive da parte del CIO. Ci vuole, come dire, ordine probabilmente, mettere ordine, prima però pianificare, programmare, discutere e dopodiché apportare il cambiamento. Qui invece si è fatto un percorso probabilmente contrario. Prima si è cominciato a dire che tutto questo va tolto, va cambiato, senza avere il programma da presentare. Poi è successo quello che è successo, ora si parla che entro agosto dovrebbe andare in Parlamento il discorso dei decreti attuativi della riforma dello sport. Bene, io devo dire che un po' di preoccupazione c'è. Una preoccupazione c'è perché ciò che non si è fatto in due anni non penso che si possa fare bene in due mesi, con tutto quello che è accaduto. Perciò ci vuole veramente… Noi eravamo siti quando c'era la Melandri, quindi avevamo visto la Melandri, ecco, in tutta, eccetera, che pensava di raggiungere l'obiettivo mettendosi la tutta con scritto Italia, ma non era quello il concetto degli altri ministri dello sport che c'erano. Ci vuole una grande responsabilità in buon senso da parte di tutti e poi anche una comprensione… Da noi c'è una bella espressione che si chiama lasciamo andare, che per me non significa dare ragione a quello che è stato, significa riproporre la consapevolezza del presente, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa. Parlando, diciamo che ormai parliamo del prossimo quadriennio che ci porterà verso Parigi 2024. Sì. Dovrebbe portarci perché qui tutto è condizionato. Il primo passo nel nuovo anno, da gennaio a marzo o aprile, eccetera, ci sarà l'assemblea elettiva. Ecco. Sì. Tu sei la continuità operativa, mentale, fisiologica del taekwondo italiano. Come vedi la prossima elezione federale? Ma soprattutto quali sono i principi che tu vuoi mettere in evidenza nel prossimo quadriennio? Io sono una persona che affronta le questioni in modo molto aperto e ho sempre messo davanti la questione di, come dire, rendere l'organizzazione del taekwondo in Italia, la federazione sempre più grande. L'obiettivo è quello. Non credo che ci possa essere una interruzione di continuità dal punto di vista di progetto. Perciò il progetto che è iniziato, che andrà a Parigi, non è altro che la continuità di quello che sarà a Tokyo, che viene da quello di Rio, che è precedente di Londra. Non ci può essere un'interruzione di continuità. Il lavoro va avanti, nel senso che va avanti verso obiettivi ben precisi, che è quello di sviluppare sempre di più la federazione e il taekwondo nel nostro paese. Con un'idea che deve essere condivisa da parte di tutti i miei collaboratori, da parte della stragrande maggioranza delle associazioni sportive. Poi ci potrà essere anche qualcuno che non la pensi così, ma questo non mi preoccupa. Sicuramente io farò come obiettivo primario da raggiungere quello di far realizzare il sogno di poter partecipare a dei giochi olimpici ai ragazzi che oggi sono juniores, che naturalmente loro sognano di poter partecipare a Parigi e creargli tutte le condizioni migliori perché questo avvenga. I miei competitor, come ho sempre detto, non sono le altre federazioni o organizzazioni di arti marziali, ma è la fede del calcio. Perciò io devo sempre sapere che nel mio paese il calcio e la fede del calcio sono il mio competitor principale. Sapendo questo capisci bene quanto lavoro bisogna fare, quanto bisogna programmare e soprattutto meno si sbaglia e meglio è. Io non vivo di passato, non mi interessa il passato, sono una persona che ama sempre il futuro, nel senso che guardo sempre avanti. Ciò che c'è stato per me non è stato altro che un percorso che ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Come dicevo quando siamo partiti e la federazione non esisteva, c'era una federazione associata a un'altra federazione nazionale, non ci conosceva nessuno, quando il presidente Parker mi disse un giorno io ho fatto quello che ho fatto fino ad oggi, oggi non posso andare oltre, questo sarà compito tuo e dei tuoi collaboratori. Io ti potrò dare una mano, mi disse, fin quando saprò di essere utile, soprattutto per un discorso di unione tra il passato e il presente, dei rapporti internazionali, ma il percorso da questo punto di vista di sviluppo dell'organizzazione ora spetta a voi. E questo è veramente un messaggio importante che mi diede dieci anni fa, parliamo. Allora questa cosa io la sento veramente come un'eredità, una responsabilità da poter portare avanti, ma la cosa bella è quella che oggi i nuovi ragazzi, nuove generazioni con il quale mi confronto in continuazione, vedo che loro sono proiettati peggio di me verso il domani. Per loro il taekwondo è solo quello olimpico che hanno vissuto, perché il taekwondo è all'Olimpiadi da vent'anni, non stiamo parlando di ieri, perciò per loro non esiste un altro taekwondo. Il taekwondo è questo, con queste problematiche, con quello che sarà lo sport del domani, perciò bisogna dargli tutti gli strumenti, mettere a disposizione un'idea, un'idea che è quella che dobbiamo realizzare, che è un taekwondo completamente diverso di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. perché io sono convinto che il taekwondo può essere uno degli sport del futuro, anche a fronte, ad esempio proprio alla notizia di ieri, la SOIF, la federazione internazionale degli sport estivi, ha fatto fare il salto di quadrilità alla World Taekwondo, quella certificando la B2, tra una delle federazioni che aveva avuto la governance migliore. E questo è importante, perché è importante? Perché questo tipo di riconoscimento di un lavoro che si sta facendo non solo a livello nazionale, ma a livello internazionale, io faccio parte del board con il presidente mondiale, sono uno dei suoi collaboratori più stretti, c'è un'idea globale del nostro sport, dove lo vogliamo portare? Non ci spaventano i cambiamenti, non ci spaventano soprattutto le richieste che ci vengono da parte delle nuove generazioni, che probabilmente alcune volte puoi anche non condividerle, perché dici ma si stravolge qualcosa, però è quello, perciò bisogna saper calibrare le cose e continuare ad andare avanti. Presidente, hai citato un esempio molto importante il tuo rapporto, il tuo inserimento nel politiburo del Taekwondo mondiale, eccetera, ma soprattutto l'Italia, grazie al lavoro che è stato fatto dalla federazione e tuo in particolare, ha una grande immagine l'Italia per il Taekwondo mondiale. Il torneo di Roma, in cui lo scorso anno ho partecipato lì all'Euro, è stata una cosa veramente incredibile, i bambini, i genitori, il movimento stesso, a parte il discorso… Sì, è quello proprio per rafforzare l'idea di quello che è il Taekwondo oggi e dove vuole andare, no? Come ho impostato la questione. La FITA è stata premiata come la migliore federazione al mondo l'anno scorso e questo è stato un riconoscimento che nessuno si poteva immaginare ed è avvenuto, è stato un riconoscimento importante, non perché Angelo Uscito era presidente della federazione o per rapporti… Assolutamente no, ma per l'attività e per il livello organizzativo che noi siamo riusciti a raggiungere. Portare in Italia il torneo di Grand Prix e farlo al Foritalico, nel tempio del tennis, uno dei più bei posti al mondo e integrarlo per la prima volta, non è mai stato fatto nella storia del nostro sport e anche di altri sport, molti altri sport. Mettere i bambini di sei anni nella stessa area, nella stessa area del Foritalico, gareggiare e allo stadio a fianco far competere i campioni olimpici e mondiali contestualmente mentre si svolgeva quell'attività dei bambini che è il futuro, ma non il futuro di domani, ma li vedremo combattere fra 15 anni a livello internazionale, perché hanno sei anni. Perciò il concetto era integrare queste due cose, queste due anime, con le famiglie, con le televisioni, con le dirette Sky. Perciò tutto questo è portare il taekwondo a questo livello e diventare un modello anche per gli altri paesi. Questo grazie a quello che si è riusciti a fare, che siamo riusciti a portare l'Italia come modello a livello internazionale. Il fatto di entrare anche nel Colosseo, quello del Demo Team, all'interno del Colosseo, che è stata un'immagine enorme a livello internazionale, o essere ricevuti e fare la dimostrazione esatto in Piazza San Pietro davanti al Papa, un'altra storia fantastica quella. Perché io penso che il taekwondo merita tutto questo, come anche sport simili al taekwondo. Perché, ripeto la frase che ho detto prima, i miei competitor sono la fede del calcio, non è certo il karate, il judo, il ping pong, il tennis tavolo o altri sport a livello di dimensione come i nostri. Noi dobbiamo volare alto. L'altra parte fa parte delle tecniche di base del taekwondo. Hai dimenticato il grande itinerario fatto dal Demo Team coreano e quello che fa il Demo Team Italia, da Torino, Milano, Roma, eccetera. Con una funzione importante, perché non è solo quello che abbiamo messo su come federazione internazionale, quella ha una funzione umanitaria enorme. Cioè quello è un sostegno da un punto di vista umanitario. Si va in giro per tutti i campi profughi delle zone più disagiate al mondo. Dove noi andiamo, facciamo taekwondo, si lasciano i tecnici lavorare all'interno di queste situazioni disagiate per far fare sport ai bambini, per far fare taekwondo ai bambini. Un passaggio l'altro anno è stato fatto anche durante il terremoto qui in Italia, ad Ariccia, dove siamo andati, dove i bambini delle scuole in quella situazione così complessa hanno passato una giornata insieme alla squadra, hanno visto la dimostrazione. Perciò è la funzione dello sport, che è delle nostre discipline, in particolare quello del taekwondo, quello di saper calibrare la questione. Cioè il secondo olimpico, sport da combattimento, olimpiadi, messaggio straordinario per tutta l'umanità. Dato che parliamo degli ignores, come hai citato, non dimentichiamo che il 2022 c'è da cari in Senegal i giochi olimpici giovanili, quindi vuol dire che già il prossimo quadriennio ti vedi impegnato su due giochi, quelli giovanili. Esatto. La cosa bellissima sarà il fatto che siano in Senegal, anche i luoghi sono importanti, non è da poco portare dei giochi olimpici in quelle terre, in quelle aree, e questo chi oltre allo sport lo può fare? Le guerre. Questo è drammatico, ma le guerre, solo le guerre arrivano in tanti punti dove invece lo sport arriva con un messaggio completamente contrario. Ecco perché è importante il messaggio olimpico. Siamo presenti alle ultime battute. C'è un nostro lettore, Salvatore Giandinotto, che chiede quale sarà il destino delle ASD. Qual è il tuo pensiero? Ma assolutamente un destino positivo, nel senso che le ASD, uso una frase che ha usato il procuratore nazionale antimafia Caffiero, le palestre, le ASD in questo caso, sono un presidio importantissimo contro la criminalità e il disagio nelle aree più disagiate del paese. Questo è importante esserne consapevoli. Le associazioni sportive vivono al 90%, perché c'è un maestro, un allenatore, un tecnico appassionato del suo sport e riesce a creare aggregazione con i ragazzi e a diventare un modello. Bene, nessuna legge potrà ammazzare questo, potrà complicare la vita o potrà risolverla, questo lo si vedrà, però nessuno, io sono convintissimo, potrà eliminare quella che è la funzione delle associazioni sportive. E noi in questo siamo più forti degli altri, perché gli sport come i nostri parlo, perché noi di sacrificio le abbiamo sempre fatte, le nostre associazioni sportive le hanno sempre fatte, hanno sempre lavorato anche senza avere finanziamenti, senza avere garanzie, e questo ha fortemente forgiato le persone che lavorano nell'arma delle nostre associazioni sportive. Io sono convinto che assolutamente continueranno a esistere, si rafforzeranno e soprattutto chi dovrà rendersene conto lo farà abbastanza presto, perché capiranno veramente cosa vuol dire la funzione di un'associazione sportiva sul territorio. Prima di concludere la nostra chiacchieratona, volevo citare la nostra Samurai Channel, è in pool con la piattaforma NCG Television, quindi si troverà su Youtube e oltre che le page su Facebook. È stata un'iniziativa che abbiamo messo in operativo lo scorso anno, volevamo riproporla in partenza a settembre, ma invece per via del virus abbiamo dovuto accelerare. Siamo ancora in fase di rodaggio, ma è questo anche per noi il compendio da Samurai ed Icola, l'Enciclopedia delle Arti Marziali, come la uso dire io, il nostro biglietto da visita, che da 44 anni e 5 mesi è sempre lì in Icola che aspetta, questo alla televisione sarà il discorso del futuro. Non ditemi come, quando e il perché, perché io ritengo di essere ancora un ragazzo di campagna e quindi quando parliamo di tecnologie moderne, eccetera, ho qualche remora piuttosto impegnativa. Tanto è vero che non uso neppure il computer, proprio perché, è un piccolo antefatto, quando è venuta la società, per noi giornalisti, eccetera, a presentare il computer, fece una domanda semplice, dice ma qual è il bottone che devo schiacciare, eccetera, eccetera, la risposta è stata piuttosto burbera e ho detto, beh, io ho un complesso più, punto, finito. D'altra parte, d'altra parte, ecco. Di solito i problemi. Presidente, io ti ringrazio del tempo che ti ho rubato alla tua federazione, complimenti per la chiacchierata, sei sempre molto preciso, molto preciso, molto sul pezzo, come si usa a dire, e noi, come Samurai, diciamo che ci vediamo nel Tokyo 2021, è già arrivata la seconda lettera di accredito, eccetera, eccetera, quindi in un modo o nell'altro, sempre che incrociamo le dita, ci saranno, io ci sarò e tu ci sarai. Auguri alla tua federazione e a tutti i ragazzi. Grazie a tutti e un abbraccio. Grazie a tutti.